Bellavio bentornati su RealNapoliFootball ragazzi stiamo affrontando la divisione 4 siamo a 3 partite alla fine 6 punti da fare ci servono due vittorie vediamo se riusciamo a farle per evitare di rigiocare la divisione 4 sarebbe veramente l'ideale per continuare questa stagione come sempre ragazzi se vi fa piacere supportarmi in questa scala della divisione 1 con soli giocatori del Napoli magari lasciando il like al video iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questo Napoli contro Napoli sempre interessante sfidare noi stessi non che la cosa mi piaccia particolarmente in realtà mi fa abbastanza schifo giocare contro il Napoli però this is this is ottimo abbiamo Meret che ha fatto una cagata l'altro giorno contro il Frosinone dopo aver parato il rigore a terra e abbiamo anche Nathan a terra facciamo giocare Ostigard dal primo minuto anche noi gollini in porta il resto è tutto ok loro giocheranno molto centralmente potrebbero avere qualche problema sulla fascia noi proveremo ad allargare il gioco a questo punto tentando qualche inserimento con Pietro Zilischi che lo passo trequartista e penso che può andare bene così andiamo al match e andiamo a vedere che cosa succede si parte Napoli contro Napoli partite che cominciano a scottare come si vuol dire si parte partono loro andiamo subito in pressing attenzione Maradona Lobo Anghissà di Lorenzo se non c'è Maradona per loro che tira ma è Gollini sto dicendo ma è Gollini che para poi Mario lui va subito qui da Cavaraschelia dribbling di Cavaraschelia numero magico di Cavaraschelia che va dentro a Zilischi che poi va da Apolitano appoggia per Anghissà prova il dribbling Anghissà fermato Zambo raccomani anticipa tutti i raccomani appoggia Gollini che rilancia lungo verso Simen che prova ad appoggiare niente da fare attacca adesso il Napoli ancora palla dentro Raccomani prova a chiudere su Maradona che era fino in fondo palla sul fondo fino in fondo e poi polla sul fondo a stare più attenti Gollini rilancia lungo verso Vittor Simen che prova ad appoggiare all'obocca gran palla per l'obocca che allarga per Politano Politano dribbling di Politano prova a rientrare appoggia all'obocca che scende centralmente Lobo dentro per Zilischi per Cavaraschelia che prova ad appoggiare a Osimene niente da fare proviamo a scappare all'indietro palla dentro per Ronaldo attenzione la parata di Gollini che ha iptonizzato Ronaldo poi Maradona e Raccomani ce la caviamo qui mica male la difesa ragazzi cazzo il joystick lo botca salva tutto poi Zilischi allarga per Cavaraschelia va a centrale ancora da Zilischi prova a scendere Zilischi centralmente Zilischi di esterno verso Anghissala palla appoggiata check che rilancia lungo Peter Schack attenzione palla verso Maradona Raccomani di Lorenzo Ostigard proviamo a scendere con Odegaard Messi anticipo di Lobo e poi allarga per Raccomani che fa correre Politano Politano rientra Politano va centralmente da l'obocca che allarga Mario Rui cambiamo gioco scende Mario ma Mario Rui fino in fondo Mario Rui Mario Rui Mario Rui prova addirittura a tirare sta filata di Rui sta filata di Rui che ha provato a bucare il portiere forse ha un po' esagerato qui il maestro attenzione Politano proviamo il pressing Anghissala prova ad andare Politano Zilischi allar attenzione provano ad andare da Ronaldo torna Giannino Di Lorenzo Raccomani fa scendere ancora Di Lorenzo che appoggia ad Anghissala Anghissala allarga per Politano secondo me qui c'è un piccolo fallo su Anghissala poi Zilischi Di Lorenzo Anghissala palla dentro Zilischi Osimena prova a ritardarlo a Zielo che però non stava arrivando peccato se l'ha fermato Zilischi colpito Anghissala la palla finisce comunque a Messi palla dentro provano ad andare loro Raccomani Di Lorenzo allarga per Politano appoggia dietro per Zilischi dentro ancora per Politano Politano vada Osimena che prova a penetrare Poli si ferma cerca Zilischi si ferma anche Zielo per Anghissala che spara Frank Zambo Anghissala ci porta in vantaggio con questo inizio di stagione fantascientifico per Zambbo devo mettere un ottimo caricare le cuffie se no non sentimo un cazzo perfetto Frank Zambo Anghissala ci porta avanti questa partita che fino ad ora è abbastanza complessa Anghissala ancora attenzione Ronaldo fino in fondo osticato prova a recuperare arriva Mario Rui e Gollini spazza per Osimena che appoggia ad Anghissala che allarga per Giannino Di Lorenzo palla per Politano si gira Politano Politano dentro per Anghissala palla complessa Politano poi invada Di Lorenzo appoggia per Rachmani Osticard allarghiamo dall'altro lato verso Mario Rui scende Rui prova ad andare da Lobotka palla in fallo laterale Mario Rui va da Zilischi brutta palla qui Osticard e poi Rachmani faccia un piccolo miracolo Zilischi errore di Zielo Osticard ancora un bel anticipo ma perde palla con Rodegard Messi fino in fondo Di Lorenzo spazza qui per evitare problemi verso Simen palla per Politano prova a ritardare da Simen Maldaer anticipa la grande Maradona Maradona fino in fondo Rachmani Anghissala errore qui in impostazione Teo può ancora scendere Di Lorenzo palla dentro Rachmani appoggia per Zilischi che scende allarga per Anghissala va dentro per Politano la palla non passa ripartono ancora loro ancora Bellingham Zilischi va a chiudere Zielo non riesce a prenderla ancora Bellingham Di Lorenzo esce su Odegard dalla grande Giannino Di Lorenzo dentro per Politano gran palla per Politano che entra in area di rigore fino in fondo il cross in mezzo la palla non arriva e ancora Anghissala Zambu Anghissala doppietta incredibile ancora lui ancora lui ancora Zambu ancora Zambu Zambu Anghissala palla dentro attenzione Maradona provano a metterla dentro da Messi e arriva Osticard poi Lobosca fa correre Politano che la mette dentro però Simen niente da fare palla dentro per Messi arriva Ronaldo arriva Mario 2 che spazza verso Simen che prova a metterla giù per Politano ci riesce Politano però Simen prova a buttarla avanti da Zilischi che prova a contrastare finisce il primo tempo 2-0 ragazzi con un Anghissala on fire con un Anghissala on fire ragazzi si riparte secondo tempo Osiman Lobosca allarga per Mario 2 palla per Zilischi per Kvara Schelia Kvara Schelia che effettivamente non si è quasi proprio visto in questo primo tempo Zilischi prova a scendere Anghissala recupero palla allarga per Zilischi vada Kvara Schelia Kvara Schelia cerca dentro Zilischi gran palla di Kvara Zilischi vada Politano Politano cerca ancora Zilischi in aria niente da fare Politano Osimena facile facile per il 3-0 Vittor Osimena regalone in aria del nostro avversario regalone in aria e Vittor non perdono Vittor non perdono 3-0 Zilischi alza questa palla verso Simen niente da fare la recupera Osimena appoggia per Anghissala la palla non passa viene colpito Politano Anghissala prova il cross adesso la 3-4 niente da fare Di Lorenzo lobo centrale per Kvara Schelia Osimena Kvara Zilischi la parata di Cech di Cech poi Osimena si gira Hernandez poi Anghissala che spara dalla distanza Cech incredibile poi Costa cortamente fuori stava arrivando Zielo niente da fare Anghissala Osimena la parata di Cech stiamo dominando e Zilischi alla fine la metta in porta Pietro Zilischi 4-0 pazzesco con Zilischi che segna anche lui dopo la doppietta di Anghissala palla dentro attenzione Messi attenzione fallo di Anghissala Politano recupera palla Matteo errore di Politano va Bellingham dentro attenzione di Lorenzo per recupero palla Zilischi allarga per Kvara Schelia che rientra Kvara Schelia scende Kvara Schelia perde Pallagon Ostigard che anticipo di Ostigard Zilischi Kvara Ostigard allarga per Mario Lui Varu e cerca dentro Simen per Zilischi palo che palo di Zilopo arriva Politano la palla resta lì incredibilmente Gesù ragazzi che palo di Zilischi Mario Lui allarga per Kvara Schelia palla dietro per Zilischi Zilischi scende appoggia per Lobot arriva Lobo Lobo fin dentro Lobo dentro per Matteo Politano prova a tirare niente da fare arriva Anghissà palla per Kvara Schelia che va a giro check check Maradona Di Lorenzo prova a dare una mano arriva Zilischi palla per Anghissà cerca Simen che non riesce a girare la palla Lobo di Lorenzo un po' a vuoto qui attenzione scende Dilo c'è anche Bellingham di Lorenzo la ricopra facile e l'appoggio a Zilischi che va direttamente da Anghissà che appoggia Rosimè intacco per Kvara Schelia che fa scendere il maestro Mario Lui dentro va da Kvara Schelia si ferma Kvara sbaglia Kvara Schelia Ostigard Rachmani deve chiudere se ne va Ronaldo arriva il capitano fantastico Di Lorenzo qui poi Di Lorenzo va centralmente da Zilischi che cerca Anghissà niente da fare ripartano loro commessi Odegaard Mario Lui recupera palla Kvara Schelia subito dentro stranamente male qui Lobot recupera palla break di Lobo scende Lobo dentro per Ossiman niente da fare poi Ossiman Kvara Schelia dentro ancora per Ossiman fallaccio Sossiman al limite dell'aria fallaccio Sossiman al limite dell'aria ragazzi cosa sta succedendo abbandonato tutto bloccato si abbandonato vabbè ci sta ragazzi ci sta ci sta ci sta non gli stava riuscendo nulla poi è probabile che non so per quale motivo ho avuto l'impressione di avere un po' di script da favore in questo caso bisogna essere onesti a volte capita spesso mi è capitato di averlo contro in questo caso mi sembrava mi riuscisse tutto anche un po' troppo facilmente comunque bene così ci fa piacere ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti